Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questa lezione in cui cercheremo di ricostruire il percorso che conduce fino a Kant, al criticismo di Kant. È quindi una sorta di lezione introduttiva alla filosofia di Kant e alla comprensione della filosofia di Kant che è centrata su un particolare problema, il dibattito sulla conoscenza e sulla natura della conoscenza che attraversa tutta la storia della filosofia, almeno a partire da Platone, per giungere appunto sino a Kant che segna in qualche modo uno spartiacque perché con Kant questo problema certamente non viene risolto ma riceve una diversa impostazione che muterà il dibattito intorno alla conoscenza. Bene, quando parliamo di conoscenza e di dibattito sulla conoscenza in filosofia intendiamo soprattutto due problemi. che cosa sia la verità e se e in che modo possiamo arrivare ad essa. Questo dibattito è un dibattito secolare, millenario anzi, che noi faremo cominciare con Platone. Immagineremo questo dibattito come una partita, una partita a scacchi che si svolge nel corso dei secoli e cercheremo di capire lo svolgimento della partita prima di Kant per valutare correttamente la mossa di Kant, la mossa che è riassunta da Kant stesso con l'espressione di rivoluzione copernicana. Di ciascun autore presenteremo la mossa principale, cioè la risposta che dà a questo problema ma è il modo stesso in cui configura questo problema. Gli autori che prenderò in esame sono alcuni dei più importanti autori che vengono studiati nel corso del programma di storia della filosofia del liceo. Bene, possiamo cominciare. La prima mossa, senza altro, in questa partita, spetta a Platone, la mossa d'apertura di questa partita. Senz'altro già Parmenide, con la sua formula, l'essere è non può non essere, non essere non è, non può essere, fissa una definizione di verità in termini logici di principio di non contraddizione, però diciamo che come influenza nel dibattito successivo è Platone che pone i termini della questione. Secondo quella che poi Platone, questo signore, verrà chiamata, dicevo, teoria della verità come corrispondenza. La corrispondenza implica due termini che devono corrispondere. Uno è il sapere che si esprime in un linguaggio, il linguaggio dichiarativo, cioè un linguaggio formato da giudizi, non da preghiere, non da desideri, non da ordini, ma giudizi, cioè affermazioni che dicono qualcosa sul mondo, e la realtà a cui questo linguaggio si riferisce. Bene, abbiamo detto due termini, un soggetto che conosce e costruisce il sapere e un oggetto che viene conosciuto, la realtà a cui questo sapere si riferisce. Il primo punto da fissare è che quindi la corrispondenza è tra questi due termini. Quando vi sarà corrispondenza vi sarà verità. La verità, quindi, non è una proprietà di uno di questi due termini, ma nasce dal loro rapporto. Questo quadro di Magritte, che è stato oggetto di tante interpretazioni, in questo caso lo vorrei utilizzare per rappresentare questa concezione. La tela del quadro rappresenta in qualche modo la nostra mente, in cui noi abbiamo ricostruito specularmente la realtà che c'è fuori dalla finestra e si sovrappone perfettamente a questa realtà. Ecco, questo è l'ideale della verità come corrispondenza o come rispecchiamento, proprio perché il nostro sapere rispecchia fedelmente, punto due, immagine speculare dell'oggetto, il nostro sapere rispecchia fedelmente la realtà. Quindi, il sapere è vero quando riflette il suo oggetto. Sappiamo poi che Platone indicherà nella teoria delle idee lo strumento fondamentale per accedere alla verità e nella dialettica il metodo per conoscere la verità. Ma questo è un altro discorso. La seconda mossa di questa partita aspetta al collaboratore discepolo, avversario, tra virgolette, di Platone, Aristotele, che ho rappresentato con un alfiere, questo signore è qui. La mossa di Aristotele in questa partita non è sostanzialmente diversa da quella di Platone. Aristotele aderisce anche lui alla concezione della verità come corrispondenza del sapere con la realtà a cui si riferisce. Aristotele ha il merito di aver formalizzato questa concezione di verità e di averla tramandata nei secoli. La sua famosa frase, che sembra uno scioglilingua, è vero dire di ciò che è, che è, di ciò che non è, che non è. Nella metafisica, infatti, Aristotele fissa con la seguente formula la definizione di verità. È vero dire che è ciò che è, e che non è ciò che non è. È falso dire che è ciò che non è, e che non è ciò che è. Sembra una frase estremamente complicata, in realtà è molto semplice, la verità dipende dal rapporto tra linguaggio e realtà, è una proprietà, quindi, del nostro giudizio, della nostra affermazione. Illustrerò questa con un esempio famoso nei logici contemporanei, la neve bianca. È una frase che è vera, solo se esiste qualche cosa, che chiamiamo neve, questo qualcosa gode della proprietà di essere bianco. Nella formula di Aristotele, questa frase sarà vera, perché sto dicendo qualcosa che è. Sto dicendo che la neve è bianca, ed effettivamente è così. Se stessi dicendo che la neve è nera, starei dicendo qualcosa che non è, e quindi starei dicendo il falso. Questo, quindi, ci permette di capire la formula di Aristotele. Aristotele derà poi una soluzione sostanzialmente diversa al problema della via per arrivare alla verità, basata non sulla teoria delle idee, ma sul concetto di sostanza, e non sulla dialettica come Platone, ma sulla logica come procedimento dimostrativo. Bene, passano i secoli, i termini della questione cambiano sostanzialmente soltanto intorno al XVII secolo, con un signore rappresentato qui, che si chiama Renato Cartesio, latinizzato, Descartes, che mette in mezzo Dio alla questione della conoscenza. tutto comincia col cogito ergo sum. Questo è il pensatore di Rodin, sta pensando, e la sua esistenza è necessariamente certa in quanto sostanza pensante. Cosa vuol dire tutto questo? Bene, primo punto, la mossa è la mossa del cogito. Con la mossa del cogito, Cartesio inaugura la filosofia moderna. Perché? Perché attraverso il dubbio, Cartesio mette in discussione tutta la realtà, ma non la realtà dell'io, del soggetto. Quindi solo l'esistenza dell'io è certa, l'esistenza della realtà è incerta. Ricordo che appunto dubito ergo sum, cogito ergo sum, cioè penso, dubito, quindi sono, significa che nel momento stesso in cui il mio dubbio è iperbolico, quindi riguarda ogni realtà, anche le verità più certe, come quelle della matematica, di una cosa però posso essere certo in modo assoluto, che io esisto in quanto sto pensando, e che sono pensiero. Quindi le cose che esistono fuori di me non so se esistono, non so nemmeno se esiste il mio corpo, l'unica certezza che ho è la mia esistenza come io pensante. In questo senso Cartesio dà una svolta alla filosofia, ecco perché viene considerato come l'iniziatore della filosofia moderna, giusto o sbagliato che questo sia. Cos'è successo? Chiaramente viene meno il rapporto di corrispondenza tra il sapere e il mondo, perché non siamo più sicuri nemmeno dell'esistenza di questo mondo. Allora, Cartesio, per garantire la corrispondenza tra quelle che lui chiama le idee avventizie, cioè le idee che sono nella mia mente, e che vengono da fuori, advenio, che vengono da fuori di me, per cui un'immagine o idea di albero o di neve è l'immagine di qualcosa che viene fuori da me, ma io ho solo quest'idea, ho solo quest'immagine, non so se la realtà che corrisponde a questa immagine esista davvero, né tantomeno so se questa mia immagine rappresenti fedelmente la realtà. A questo punto sappiamo che Cartesio si impegna a dimostrare l'esistenza di Dio, lasciamo stare le sue tre prove, lui ritiene di esserci riuscito con argomenti abbastanza tradizionali, a questo punto, se Dio esiste ed è perfetto, non mi può ingannare, se quindi io ho dentro di me la tendenza a ritenere che esista un mondo esterno, che le mie idee corrispondano a questo mondo esterno, vuol dire che è davvero così. Qui si vede che quindi Dio diventa il garante dell'oggettività della conoscenza, dove oggettività vuol proprio dire che la mia conoscenza non è campata per aria, ma corrisponde esattamente all'oggetto. Quindi Cartesio si muove ancora nell'ambito della concezione della verità come corrispondenza, la mia mente ha costruito dentro di sé un'immagine speculare esatta della realtà, però tutto questo, a causa del suo mettere in dubbio la realtà esterna, è giustificato e garantito soltanto dall'esistenza di Dio. è una soluzione quella cartesiana simile a quella di un suo più anziano contemporaneo, Galileo Galilei, anche lui convinto che la matematica avesse un valore oggettivo, pur essendo una costruzione a priori creata dalla nostra mente, avesse un valore oggettivo, cioè ci permettesse di descrivere le leggi della realtà, perché Dio ha scritto il libro della natura, quando ha creato la natura, usando come linguaggio la matematica, cioè cerchi, triangoli e così via. Anche questa è una convinzione metafisica, che però Galileo non affronta sistematicamente come cartesio, posta a giustificare la legittimità e l'oggettività della conoscenza, cioè la validità della concezione che in filosofia si chiama realismo gnosiologico, gnosiologico, conoscenza, la nostra conoscenza ha un valore reale, cioè corrisponde effettivamente all'oggetto così comesso e alla realtà così comessa è fuori di noi. La quarta mossa di questa partita che attraversa i secoli è quella che viene effettuata circa un secolo dopo da David Hume, il filosofo scozzese che appartiene alla tradizione empiristica inglese che ho rappresentato con la figura del re perché la sua è una mossa decisiva. Infatti Hume con il suo scetticismo mette in discussione la stessa esistenza di una realtà esterna inoltre con Hume non abbiamo più Dio a giustificare l'esistenza della realtà esterna e la corrispondenza del nostro sapere con essa. La realtà esterna è una credenza ingiustificabile dice Hume. La nostra conoscenza infatti per Hume non può andare oltre le impressioni. Le impressioni costituiscono un limite invalicabile. io ho delle impressioni quelle che Cartesio chiamava idea ventizie per esempio l'immagine dentro di me di una persona non posso sapere né se questa persona esiste davvero né si vede come possa fare a sapere che l'immagine che ho di questa persona corrisponde esattamente a com'è quella persona dato che io ho solo l'immagine e non posso mettere quella persona dentro la mia testa e vedere se corrisponde all'immagine. Quindi in base alla stessa teoria della verità come corrispondenza che viene meno la possibilità di una verità assoluta dato che io non posso confrontare le mie idee le mie impressioni le mie idee semplici direbbe Locke con gli oggetti cui esse si riferiscono la sola realtà che io conosco sono le impressioni già questo è un limite invalicabile quest'icona Smiley esprime il dubbio scettico di Hume cosa è successo è successo dice Hume che non esiste che non si può affermare razionalmente né che esista una realtà a noi esterna né si può affermare razionalmente che la nostra conoscenza corrisponda ad essa in tutto questo viene coinvolto lo stesso principio di causalità la cui importanza è decisiva perché la scienza si fonda sul principio di causalità le leggi scientifiche altro non sono che rapporti causali universali e necessari ma come per la credenza nella realtà esterna così anche per il principio di causalità si tratta non di un principio dimostrato o dimostrabile ma di una semplice credenza noi crediamo alla validità universale del principio di causalità in realtà questa credenza poggia su un'abitudine l'abitudine che noi abbiamo a vedere due fatti che si ripetono nella nostra esperienza passata si sono ripetuti sempre insieme come le famose palle di biliardo una palla la palla 8 diciamo colpisce la palla 1 e ne provoca il movimento questo è un fatto empirico che David Hume non mette in discussione ciò che lui mette in discussione è che vi sia un rapporto necessario in questa concatenazione causale cosa vuol dire? vuol dire necessario che tutte le volte che condizioni simili si ripeteranno anche in futuro in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo diciamo dell'universo si avrà la stessa conseguenza cioè la palla 1 si muoverà no, dice io questo non lo possiamo dire perché quello che possiamo dire è limitato dalla nostra esperienza passata quindi non possiamo dimostrare il principio di causalità in base all'esperienza perché l'esperienza non può dimostrare una proposizione universale mi spiego meglio un'affermazione così banale come tutti i metalli scaldati si dilatano in cui c'è un rapporto causale tra il calore e la dilatazione come effetto del calore del metallo non può essere dimostrata empiricamente perché l'affermazione è tutti i metalli quindi io dovrei verificare empiricamente che tutti i metalli che esistono ora in tutti i luoghi dell'universo ma anche tutti quelli che sono esistiti in tutti i luoghi dell'universo prima e tutti quelli che esisteranno in futuro sempre avranno questo comportamento non posso fare questo posso farlo allora in base alla logica in base al principio di non contraddizione per esempio è necessario che un quadrato abbia quattro lati è evidente secondo Jung questa sarebbe una proposizione relativa a idee la chiama Jung quella che poi Kant chiamerà una proposizione analitica è evidente che io non posso pensare un quadrato con tre lati sarebbe contraddittorio non sarebbe più un quadrato mentre posso benissimo pensare che la palla 8 colpisca la palla 1 e la palla 1 sparisca si trasforma in un gattino oppure dia una sberla alla palla 8 perché è stata da lei disturbata è improbabile è assurdo è ridicolo ma è assolutamente logicamente possibile non è cioè contraddittorio quindi nella logica nell'esperienza mi possono permettere di giustificare il principio di causalità siamo arrivati a uno scetticismo radicale il principio di causalità non è valido la realtà non possiamo dimostrarne l'esistenza la nostra conoscenza quindi non si vede come possa corrispondere a questa realtà è un impasse o uno scacco matto sembrerebbe è a questo punto che arriva Kant la mossa di Kant che esamineremo nella seconda parte di questa lezione è appunto il criticismo è all'interno del criticismo quella che Kant chiama la rivoluzione copernicana una mossa atipica spiazzante che riconfigura un po' i termini della questione cioè che tocca proprio quella corrispondenza che era stata da Platone in poi posta alla base dell'idea di verità la verità non sarà più la corrispondenza tra la nostra mente e la realtà vedremo questa soluzione dicevo nella prossima lezione metterò il link a questa presentazione nel box informativo del video grazie per la pazienza e a presto grazie a tutti